Tante novità in casa Toyota al prossimo salone di Ginevra aperto al pubblico dal 5 al 15 di marzo. Assieme a qualche concept potremo scoprire le nuove Auris e Avensis. L'Auris giunto alla sua terza generazione sarà presente sia in versione hatchback che touring sport. Modifiche estetiche di dettaglio per la carrozzeria e per gli interni, con una maggiore cura al comfort e alla dotazione di sicurezza. In questa costante evoluzione la versione ibrida resta al centro della gamma Auris, ma Toyota annuncia anche l'arrivo di un nuovo motore a benzina e uno a gasolio. Discorso analogo per la Avensis al suo secondo restalling in carriera, concentrato sul frontale e su alcune componenti tecniche legate a innalzare il livello della vettura media della casa giapponese.